Il distretto sociosanitario 11 aderirà all'Home Care Premium 2017. Si tratta di un eservizio dedicato ai dipendenti pubblici e prevede l'erogazione da parte dell'IPS di contributi economici per prestazioni cosiddette prevalenti in favore di soggetti non autosufficienti o disabili per il rimborso delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare. L'IPS inoltre, con la collaborazione del distretto, assicura anche le prestazioni definite integrative. Il progetto ha la durata di 18 mesi dal 1 luglio prossimo al 31 dicembre 2018. La novità principale rispetto al precedente progetto è che potranno usufruire del servizio non solo i parenti diretti ma anche gli affini di primo grado. Noi al progetto Home Care Premium abbiamo avuto già accesso nel 2014, fine del 2014, e si concluderà il 30 giugno del 2017. Ha visto assistiti diverse persone, circa 120, in tutto il distretto sociosanitario numero 11, di cui noi siamo capofila. È un progetto bellissimo che pone a centro dell'attenzione il disabile perché gli fornisce un'assistenza attraverso un badante che lo aiuta in tutte le sue faccende domestiche e in secondo luogo ha la possibilità di usufruire anche dei servizi accessori quali l'accompagnamento in farmacia, l'accompagnamento in chiesa, assistenza anche psicologica, eccetera. È un progetto che ha visto impegnati circa, abbiamo detto, 120 assistiti e 120 badanti più altri soggetti che hanno lavorato in questo progetto nei servizi accessori. In questo secondo bando c'è qualche novità. I servizi primari si è accesso direttamente attraverso l'iscrizione al portale Imbes mentre i servizi secondari saranno oggetto di una convenzione che i comuni o i distretti faranno con l'Imbes ed erogheranno. Questo è un fatto importante perché qualora non ci fossero comuni che aderissero al progetto i cittadini potrebbero ugualmente accedere a tale e a tale servizio. Soddisfatto Giampiero Modaffari, sindaco di San Cataldo, comune capofila del distretto che ha ricordato come la precedente iniziativa abbia permesso di poter dare lavoro a tante professionalità. Vogliamo far aderire quanti più cittadini possibile, ha affermato. Ed è proprio a questo scopo che è stato convocato un incontro previsto per lunedì prossimo 13 marzo alle 16 nella sala comunale Borsellino per presentare e illustrare a enti e associazioni e a tutti i cittadini interessati le finalità e le modalità di accesso al nuovo bando.